Noi chiediamo una cosa molto semplice, la piena applicazione della sentenza della Corte Costituzionale che ha decretato come incostituzionale il provvedimento del Governo Monti che ha bloccato la pericazione di oltre 5 milioni di pensioni su una platea di 16 milioni di pensionati che è il numero attuale che abbiamo nel nostro Paese. È un provvedimento illegittimo e il decreto partorito dal Governo Renzi in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale in realtà è un provvedimento che dà semplicemente una mancia e non prevede un completo ristoro di ciò che è il diritto di oltre 5 milioni di pensionati italiani. Noi abbiamo presentato una mozione in Consiglio regionale che è stata approvata all'unanimità. Questa iniziativa è per far sì che vi sia un livello di conoscenza su questo problema sempre più alto perché è una battaglia di giustizia. Le sentenze della Corte Costituzionale si applicano sempre ma è anche una battaglia di intelligenza economica e sociale perché in realtà nel nostro Paese il vero ammortizzatore sociale è rappresentato dalle famiglie e tantissime sono le famiglie il cui unico reddito certo è rappresentato da una pensione nel momento in cui vi è un precariato diffuso se non un'assoluta disoccupazione per quanto riguarda il lavoro giovanile. Allora, in tante famiglie andare a toccare la pensione significa andare a toccare l'unico reddito certo all'interno del nucleo familiare. Quindi è una battaglia di giustizia ma anche una battaglia per dare una spinta all'economia del nostro Paese per far sì che si possa tornare ad aumentare i consumi, insomma per uscire anche dalla crisi. Da questo punto di vista il governo Renzi si dimostra sordo e balbettante rispetto alle risposte da dare e noi Umi Forza Italia le risposte le stiamo dando.